Il boato si è sentito chiaramente nella zona tra via Brigata, Bari e Corso Mazzini. Erano le due di notte, per strada non c'era quasi nessuno, se non un ragazzo di 22 anni che è rimasto ferito di striscio alla mano da una scheggia della vetrata del centro scommesse. In frantume anche i vetri di un portone, quelli di un paio di auto parcheggiate lì vicino, un'esplosione in piena regola provocata da un ordigno rudimentale lasciato sul marciapiede da un uomo con il volto coperto che è scappato su un'auto. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza del centro scommesse, ma nelle immagini ci sono poche indicazioni utili agli investigatori e così le indagini devono partire dal luogo in cui è avvenuto l'attentato, una zona di confine tra due gruppi criminali, gli strisciuglio e gli uomini di mercante. Il gestore del centro, un uomo che abita a San Girolamo, è stato ascoltato dalla squadra mobile ha detto di non aver ricevuto richieste nei minacce. Il centro era aperto da due anni, finora nessun problema, ma qualcuno potrebbe aver puntato gli occhi ultimamente con l'idea di chiedere soldi. Una ipotesi per ora, non l'unica per la mobile, che sta cercando di capire se qualcuno potesse avercela per altri motivi con il gestore o con le persone che frequentano il centro scommesse.